Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento meteo di Antenna 2. Nella giornata di oggi abbiamo avuto temperature abbastanza fresche, questo per merito dell'ingresso di aria decisamente più fredda proveniente dal nord Europa che ha determinato questo break estivo proprio all'inizio di settembre. Cosa accadrà nelle prossime ore? Avremo ancora l'insistenza di questa massa d'aria, vedete, piuttosto fresca che insisterà sul nostro territorio, via via però si sposterà verso est garantendo un tempo decisamente più fresco e più variabile. Ecco, quest'aria fresca è associata a questo nucleo che nel corso della giornata di venerdì si è avvicinato sul nostro territorio determinando il vero e proprio break estivo. Cosa accadrà poi a partire dalla settimana prossima? Vedete come questa goccia fredda si allontanerà via via verso i Balcani e l'anticiclone delle azorre tenderà nuovamente a riconquistare gran parte del Mediterraneo occidentale portando a una generale stabilizzazione del tempo con temperature anche in graduale aumento comunque in un contesto di settembre, quindi non avremo eccessi troppo elevati di temperatura in un contesto di clima decisamente gradevole settembrino. Ma vediamo con ordine l'evoluzione del tempo per la giornata di domani, domenica. Abbiamo indicato ancora delle nubi sul nostro territorio, infatti come in gergo noi meteorologi chiamiamo avremo la ritornante della perturbazione. La perturbazione tende ad avvitarsi su se stessa portando ancora delle nubi sul nostro territorio. Ecco l'occasione di piogge sarà veramente modesta, quindi sarà una giornata nel complesso discreta, molto fresca, con nubi alternate a schierite. Ho indicato soprattutto dal pomeriggio sera qualche locale piovigine, qualche locale piovasco sui nostri rilievi orobici ma nulla di particolarmente rilevante. Quindi nel complesso sarà una giornata fresca dal tempo variabile e con bassa probabilità di precipitazione. Lo zero termico si posizionerà intorno ai 2700 metri di altitudine, un clima decisamente fresco, temperature sull'alto piano di Clusone nella giornata di domani non superiore ai 18 gradi, 10-11 gradi la temperatura minima. Vediamo l'evoluzione del tempo per la settimana. Lunedì ho indicato ancora una certa variabilità sul nostro territorio, anche se sarà via via un graduale miglioramento del tempo. Abbiamo detto che l'anticiclone tende ad espandersi nella nostra situazione mediterranea, pertanto avremo via via delle schierite sempre più ampie, temperature al mattino abbastanza fresche, intorno ai 10-11 gradi a Clusone, massime che guadagneranno qualche grado e si posizioneranno intorno ai 22-23 gradi di massima. Cosa accadrà nella giornata di martedì? Torna il bel tempo sul nostro territorio, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso per tutta la giornata, temperature vedete anche in decisa ripresa con massime che raggiungeranno anche i 24-25 gradi, garantendo una giornata davvero dal clima piacevole e gradevole. Zero termico in rialzo a 3600 metri di altitudine. Mercoledì cambierà poco, ancora bel tempo sul nostro territorio, vedete, temperature molto piacevoli, comprese fra i 14 gradi di minima e i 25 gradi di massima, direi proprio nella media del periodo settembrino. Giovedì ho indicato invece una graduale instabilizzazione del tempo, cioè avremo comunque un contesto buono, però nel corso della giornata di giovedì non escludo qualche occasionale piovasco, ma solo sulle nostre montagne e raggiungerà, diciamo, la media Valseriana, ma non raggiungerà la città di Bergamo, questi locali piovaschi. Venerdì probabilmente questa variabilità si estenderà un po' a tutto il nostro territorio, fino alla medio-bassa Valseriana e Lago di Iseo, con qualche acquazione possibile, specie nelle ore centrale della giornata, un po' su tutto il nostro territorio aerobico, con temperature, vedete, in graduale diminuzione, complice dall'arrivo di aria più fresca. Probabilmente il prossimo fine settimana sarà all'insegna ancora della variabilità, comunque sempre in un'estate decisamente settembrina. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo su Antenna 2.